Sono Rino Grassi, sono il presidente della Compartigianato Sede di San Severo e la mia proposta, se fossi presidente della provincia, e questa è quella, essendo anche un imprenditore, oltre che sono un artigiano, cercherei di sgravare i contributi per i dipendenti, per le assunzioni dipendenti, ma non per quanto riguarda le nuove assunzioni o anche quelle in essere, quelle che ci stanno dentro, che non è giusto pagare dei contributi esosi, che poi si mette l'azienda in condizione di licenziare oppure di tenerli annidati. Allora è inoltre fare la lotta al sommerso o cercare di fare incentivi per fare le nuove assunzioni.